Ciao a banga ragazzi e benvenuti in questo nuovo schifo time, siamo su Ghost un'altra volta ovviamente però questa volta siamo in versione, siamo sulla versione Xbox One volevo fare appunto dei gameplay su questa versione per far vedere anche le differenze non ce ne sono tantissimo ovviamente, tranne un po' di pulizia dei dettagli e cose così su Playstation 4 è sicuramente migliore rispetto alla versione Xbox One visto che gira a 720p su Xbox One, mentre a 1080p se non sbaglio su Playstation 4 però alla fine in multiplayer non è che si notano tanto le differenze, oh porca troia eccomi qua, ecco qua siamo dentro ragazzi, la partita sempre con la mia solita arma perché dice qualcuno no, ho già il mio compagno di squadra che io adoro quest'arma con questo mirino si sono un nabbo e ne sono fiero, sono fiero di essere un nabbo cazzo guarda un po' se i mirini devono essere da nabbi, ma io non lo so che cazzo di convinzione che certe persone hanno ok, vediamo se riesco a fare qualche kill ovviamente no, no, era davanti a me ma dai cioè io con sta mania di mirare perché mi piace un casino sto mirino ultra figo e faccio casini, che mi faccio uccidere praticamente da persone che nemmeno vedo vabbè, e ce l'ho sotto nel mirino cioè ce l'ho puntate che bastava cliccare un tasto per uccidere, no oddio buco mille, mille buchi la vedo morto ragazzi, la vedo morto, gente che spara gente che, eccolo lì porca troia eh, questo lo faccio fuori questo lo faccio fuori sicuramente, spero vai granata fallo fuori non fa un cazzo, ok chi è, chi è, chi è, chi è, chi è, chi è vai amico, vai amico vai eccolo lì ha ha uccisione, prima posizione prima posizione eh sono in prima posizione e non ci credo neanche se me lo fate vedere ok ovviamente ragazzi sempre deathmatch a squadra che io adoro vediamo se riesco a fare ah, avete visto che ho cambiato eccolo lì sì avete visto che ho cambiato praticamente ragazzi il skin dell'arma ecco, no cazzo, chi è chi è, chi è no, non voglio morire non voglio non voglio no dov'è 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 c'era 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 ecco no da dietro potevo far fuori porca troia ok ah, come stavo dicendo avete visto la skin dell'arma che bella che è mi gaso a bestia per una skin dell'arma bianca così dai dai dove siete andiamo nei cunicoli sotterranei pieni di fango e acqua putrida vedete anche l'acqua come è fatta meglio rispetto alla versione 360 ovviamente perché potenzia per me dentro un cane no cosa è successo no vabbè ti ritorno là voglio vedere voglio vedere e che cazzo oddio cosa sta succedendo cosa sta succedendo tanto la persone che muoiono catroia 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 dov'è 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 so che sei qua so che sei qua chi è no ma che cavolo no l'elicottero nemico casamento dove so no porca troia scusate per le parolacce no 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 vai dentro dentro scusate per le parolacce ragazzi ma ci vogliono ci vogliono non fate questo a casa dai adesso faccio il camper dai abbiate il coraggio dai son via son via dai son qua son qua ok basta dov'è dov'è tanto anche il mio amico che fa il camperaccio tutti a cam... mi sono spaccato una caviglia avete sentito il cric delle ossa crac bellissimo sta roba dai 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 la cosa bella ragazzi è che se avete oddio 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 eccolo si prima kill col col coltello cazzo buttiamolo qua la cavolo eeeh cosa volevo dire ah se avete giocato su 360 ragazzi avete fatto il passaggio su playstation 4 o xbox one o da playstation 3 a playstation 4 appunto potrete eccolo si potrete sbloccare eeeh cioè praticamente se dai dai siiii doppie colpo la testa praticamente non riesco più a parlare quando gioco io non riesco più a fare un ragionamento normale tanto la granata cane cane nooo nel senso che il vostro livello se su 360 o playstation 3 eravate arrivati al decimo livello prestigio ad esempio su ghost eeeh passando la versione xbox one o playstation 4 il vostro livello multiplayer resterà invariato perchè praticamente vi dovete loggare al sito ufficiale del gioco dunque i progressi nel multiplayer verranno registrati direttamente sul sito ufficiale diciamo sui server di activision e non su eeeh sulla gamertag diciamo così è bella dio santo è bella sta cosa perchè infatti io ho arrivato a livello 6 o 7 su 360 adesso ricomincio da livello 7 ovviamente 50 perchè 50 punti così la cazzo cosa ho fatto troppa tranquillità c'è troppa tranquillità e non va bene e non va dai no no adesso muoio adesso muoio sicuramente dai no lo sapevo quando mi agito muoio cazzo muori il cane il cane no il cane no il cane no per fortuna dai non volevo essere ammazzato da un cavolo di cane ok dai 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 8 miliardi di munizioni per un per un solo personaggio mia ok direttive ricevute dai dove siete eccolo eccolo non mi freghi ahaha lo sapevo mua 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 come volevo le munizioni maledetti un'altra caviglia spaccata dai dai ecco 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 eh 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 dai cavolo venite fuori venite a gym dai dove siete vedo lì qualcuno no è impossibile che sia sopra là ok no lì deve esserci tipo un cecchino sono sicuro perché c'era il coso rosso al cento per cento eccolo qua infatti ah ah mi aspettavi te camper invece no 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 vai vai coltelliamola coltelliamolo sì sì no e che cazzo però due coltellate ragazzi ho imparato a farle coltellate perché perché ho cambiato dalle opzioni da tattico da normale mi sembra ho messo tattico cioè invece che farle con tenendo premuto il tasto eh oddio eh digitale digitale sia analogico basta che schiacciare B e ovviamente ti fa le coltellate che è molto meglio anche anzi ringrazio ragazzi di questa di questa cosa che mi avete detto appunto perché non la sapevo onestamente non ho mai controllato le opzioni e devo dire che è più facile e più veloce da far da far kill col coltellino dunque vi ringrazio infinitamente siamo agli sgoccioli qua c'è qualcun altro no come siamo agli sgoccioli no voglio fare l'ultima kill io dai no sdraiato odio odio le persone che si sdraiano odio odio profondo disprezzo cos'è cos'è disprezzo imprezzo dove ma dai ma porca troia dove siete dove siete venite fuori no vabbè sconfitta addirittura vaffanculo vaffanculo 52 chi è questo stronzo che ha fatto l'ultima kill ma che cavolo di fucile hai ma che cavolo bello però secondo 12 kill 13 morti un po' una media migliorata dell'ultima volta ma secondo cazzo io secondo ma sono un mito ok usciamo bene aspetta si ok va bene tutto quanto ah livello quasi 8 ok usciamo dalla lobby bene ragazzi spero che questo gameplay schifo time vi sia piaciuto ovviamente io ci ho messo il mio impegno la mia come si può dire demenza e al prossimo video sicuramente magari con battlefield 4 ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.